Dopo la denuncia dell'ASBUC Paganica San Gregorio, che aveva chiesto alle autorità competenti di verificare la legittimità della presenza di una mandria di 80 bovini in località Le Fontari a Campo Imperatore su Pascoli di proprietà del centro turistico del Gran Sasso, non si è fatta attendere la replica da parte della società agricola Cariglia, titolare di Pascoli nel territorio di Assergi. La società Cariglia, scritto in una nota, è in possesso della documentazione necessaria per il pascolo degli animali. Abbiamo fatto richiesta e ottenuto i moduli specifici relativi alle autorizzazioni sanitarie di provenienza e destinazione del bestiame, cioè i pascoli dell'ASBUC di Assergi. Inoltre abbiamo l'autorizzazione a scaricare i bovini in località Le Fontari, autorizzazione concessa dell'ASBUC di Assergi a mezzo PEC. La nota stampa della società agricola Cariglia continua spiegando. I nostri pascoli si trovano a circa 300 metri dal punto in cui il bestiame è stato scaricato e abbiamo ottenuto un permesso di transito allo scarico degli animali nella zona dal momento che l'unica fonte del territorio in cui il nostro bestiame può bere si trova proprio in località Le Fontari. Dispiace, conclude la nota, leggere di affrettati allarmi e richieste di verifiche urgenti senza prima aver approvato a capire la provenienza degli animali.